I volontari sono campioni di umanità, risorsa preziosa della società. È l'omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, reso all'inaugurazione ufficiale di Trento, capitale europea e italiana del volontariato 2024. Il Papa ha scritto una lunga lettera ai fratelli e alle sorelle ebrei in Israele per promuovere insieme la pace, condanna l'antisemitismo, un peccato verso Dio e rivolge un messaggio per gli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Raed e statunitensi si abbattono sull'Iraq e sulla Siria. La risposta continuerà, ha ammonito il Presidente Joe Biden, oltre 20 morti. Nuovo attacco nello Yemen, distrutti i droni UTI pronti al lancio. E non si arresta la marcia dei trattori che da nord al sud ha attraversato lo stivale, ora contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Dopo Bruxelles l'obiettivo è spostare la protesta a Roma. Ricordo e omaggio in musica si intitola Ivan Graziani per gli amici, l'album con otto canzoni ritrovate dell'indimenticato cantautore abruzzese realizzato per iniziativa di suo figlio, Filippo. 18 e 27, buon sabato sera a tutti voi, ben trovati dalla redazione giornalistica del TG2000. L'avete sentito, il volontariato è una risorsa preziosa per la società. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Trento parla di cultura, della cura, e cita Domilani e il giornalista Megalizzi, il servizio di Pierluigi Vito. Il volontariato esprime una visione del mondo, quella della indivisibilità della condizione umana. Così il Capo dello Stato nel suo discorso ha la cerimonia di apertura di Trento, capitale europea del volontariato, una dimensione che vede l'impegno di milioni di persone anche in Italia. Energie di grande valore e di grande vigore, grazie alle quali ci siamo sentiti e ci sentiamo più comunità. Un patrimonio essenziale che pure sconta il brusco stop dovuto alla pandemia. Secondo gli ultimi dati Istat, dal 2015 al 2021 si è perso il 15% dei volontari in Italia, scesi sotto i 5 milioni e dediti principalmente ad attività ricreative e di socializzazione, sportive e culturali. Nel suo discorso Mattarella ha anche ricordato come dedicare tempo agli altri, voglia dire essere cittadini attivi, confrontarsi con le istituzioni, fare il proprio dovere, usare il patrimonio pubblico per il bene di tutti e costruire un orizzonte di speranza. La solidarietà genera speranza e solidarietà e speranza sono strettamente connesse con l'idea di pace, con lo spirito di fratellanza. La pace del nostro tempo, gravemente tradita. Mai avremmo pensato che il nostro continente sarebbe nuovamente precipitato nelle mostruosità cui oggi assistiamo nelle regioni orientali d'Europa e davanti a noi, sulle rive di quel Mediterraneo, culla di civiltà. Significativo in questo senso il saluto e il ringraziamento per la sua presenza a Trento rivolti al sindaco di Leopoli. La libertà, l'indipendenza e l'Ucraina sono tutt'uno con i valori fondativi dell'Europa. E il presidente Mattarella, lo avete appena sentito, ha sottolineato come la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina sono tutt'uno con i valori fondativi dell'Europa. In diretta da Kiev, l'inviato Vito Le Torre. Buonasera Vito, eccoti. Sì, buonasera da Kiev. Tra poco, come ogni sera, qui a Kiev, la capitale ucraina scatterà il coprifuoco. La scorsa notte è stata una notte difficile. Pensate, in quest'ultima settimana sono stati lanciati dalla Russia verso l'Ucraina ben 113 droni. Nella regione di Dnipov-Petrovsk 15.000 persone sono al buio, senza energia elettrica, con queste temperature a causa dell'ultimo lancio di droni dalla Russia contro l'Ucraina. A Kiev oggi, i giovani in piazza per pregare per chi non c'è più e per chiedere condizioni migliori dei militari al fronte. Allora andiamo a vedere questo servizio, poi la linea da Kiev può tornare a Roma. Più di mille ragazzi in ginocchio per ricordare chi non c'è più. Gli amici caduti al fronte, i vicini di casa morti durante i bombardamenti su Kiev, sono tutti giovanissimi e chiedono al governo di utilizzare al meglio le risorse economiche per sostenere i militari al fronte. Uno dei problemi più grandi in Ucraina è la corruzione. Siamo qui per chiedere che vengano fatti tutti gli sforzi possibili per equipaggiare al meglio i nostri militari. Lo sentite anche voi quanto fa freddo. Non riusciamo nemmeno ad immaginare cosa voglia dire adesso essere al fronte, in trincea. Sono qui per essere vicino a tanti miei amici coetanei che sono nell'esercito. Molti cartelli chiedono l'immediato rilascio di tutti i prigionieri di guerra. Speriamo che il governo ci ascolti. Vogliamo il meglio per chi sta difendendo il nostro paese. Ci sono opere pubbliche che potrebbero essere rinviate perché adesso la nostra priorità è sostenere l'esercito. È un controsenso spendere soldi per rifare una strada magari inutile e mandare i nostri ragazzi al fronte senza un adeguato equipaggiamento. Io ho tanti amici in guerra e purtroppo so cosa vuol dire. Troppe persone che conoscevamo non sono tornate più a casa. Per noi ogni volta è uno strazio. Ecco perché siamo qui oggi. Chiediamo a chi ci governa di fare ogni possibile sforzo per difendere chi mette a rischio la propria vita. Bisogna pensare a questi ragazzi che stanno difendendo l'Ucraina. In una lettera rivolta ai fratelli e alle sorelle ebrei in Israele, Papa Francesco esorta a lavorare insieme per la pace in Terra Santa. Cristiana Caricato. Una lettera ai fratelli maggiori in uno dei momenti più dolorosi e travagliati della storia. Francesco scrive agli ebrei condividendo tutto lo sconcerto e la preoccupazione per la guerra mondiale a pezzi in cui è immersa l'umanità ma anche per la spirale di violenza in cui è precipitata la Terra Santa dopo la strage del 7 ottobre scorso e per la potenza delle divisioni e dell'odio generate da quell'evento. Il pontefice denuncia l'insorgere di nuove forme di antisemitismo e antigiudeismo che condanna in maniera inequivocabile. Un peccato contro Dio, le manifestazioni di odio verso gli ebrei e l'ebraismo. Avevamo sperato che mai più fosse un ritornello ascoltato dalle nuove generazioni, aggiunge Francesco. Eppure ora vediamo che il percorso da fare richiede una collaborazione sempre più stretta per sradicare questi fenomeni. Il mio cuore è vicino a voi, alla Terra Santa, a tutti i popoli che la abitano, israeliani e palestinesi, assicura il Papa, che continua a pregare perché prevalga il desiderio di pace. La lettera è la risposta ad una serie di interventi e di appelli fatti recapitare al pontefice dal mondo ebraico, ma anche un modo per assicurare vicinanza e affetto a tutti coloro che sono stati consumati dall'angoscia, dalla paura e dalla rabbia per i morti e i traumi subiti dopo l'attacco di Hamas. Nel testo un appello per la liberazione degli ostaggi nelle mani dei terroristi è l'invito a non perdere la speranza in una pace possibile. Solo una parola può spezzare la spirale d'odio e violenza, scrive Francesco, ed è la parola fratello. In Medio Oriente ora con gli Stati Uniti, che hanno sferrato raid notturni su Iraq e Siria, proseguono intanto i bombardamenti a intermittenza. Oggi le forze armate israeliane hanno colpito nel sud del Libano. Marco Burini. Guerra ma non del tutto, non in campo aperto, comunque guerra. Il Medio Oriente è sempre lì, sull'orlo dell'abisso. Gli Stati Uniti lanciano un'ondata di attacchi in Siria, Iraq e Yemen come rappresaglia all'uccisione di tre soldati e il ferimento di una trentina da parte di milizie filo-iraniane. Ma non vogliamo una guerra con l'Iran, precisa il portavoce per la sicurezza nazionale Kirby, secondo il quale gli obiettivi sono stati scelti accuratamente per evitare vittime civili. Il governo iracheno però dice che tra i 16 morti e i 25 feriti nei raid nel nord del paese non ci sono solo miliziani. Almeno 23 guerriglieri eliminati in Siria, ma anche Damasco parla di morti tra la popolazione. Mentre il raid nello Yemen ha colpito postazioni di lancio dei droni che stanno sabotando il traffico commerciale nel Mar Rosso. Comunque, finché gli americani colpiscono solamente gli alleati, resistenza islamica, Hezbollah, Houthi, Agli Ayatollah di Teheran va benissimo. A loro interesse allogorare il gigante americano nella sua zona di influenza, Libano, Siria, Iraq, Yemen, e provocare continuamente Israele, l'odiato nemico. Biden ha ordinato gli attacchi dicendo che ne seguiranno altri, ma si è infilato in un vicolo cieco pensando che Gaza fosse una questione a sé, appoggiando Netanyahu, oppurturandosi il naso. Domani nella regione arriva Blinken, la quinta volta da 7 ottobre per il segretario di Stato americano, che finora non ha ottenuto granché. Né per gli ostaggi ancora in mano ad Hamas, le trattative vanno per le lunghe, né per la gente di Gaza, braccata, stremata, disperata. Zahal martella Rafa, estremo sud della striscia. Se i carri armati arrivano pure lì, non resta che scavalcare il muro di confine con l'Egitto, o buttarsi in mare come topi in trappola. Dalla striscia di Gaza, nuovo allarme dell'Unicef sulla condizione dei minori. Almeno 17.000 bambini sono rimasti senza genitori. Maurizio Rischino. La guerra nella striscia di Gaza sta avendo effetti devastanti nelle bambine e nei bambini palestinesi, a tal punto da compromettere la loro crescita, la loro salute mentale e di conseguenza il futuro di un'intera generazione. La situazione dei minori di Gaza è stata nuovamente denunciata dall'Unicef dopo una recente emissione nel territorio palestinese sotto attacco israeliano da 120 giorni. L'Unicef stima che almeno 17.000 bambini nella striscia di Gaza non siano accompagnati o siano separati dalle loro famiglie. Ognuno di loro ha una storia straziante di perdita e dolore. Questa cifra corrisponde all'1% della popolazione sfollata, cioè 1,7 milioni di persone. Si tratta di una stima, poiché è quasi impossibile raccogliere e verificare le informazioni nelle attuali condizioni umanitarie e di sicurezza. Nella striscia di Gaza scarseggiano acqua, cibo e farmaci e molti bambini hanno perso i genitori a causa dei bombardamenti che non accennano a fermarsi. La salute mentale dei bambini palestinesi è gravemente compromessa. Come sintomi presentano elevati livelli di ansia persistente, perdita di appetito, non riescono a dormire, vanno nel panico ogni volta che sentono un bombardamento. Un altro fronte è quello della missione europea nel Mar Rosso a protezione del traffico mercantile che sarà a guida italiana. Ma quelle sono state, sino ad oggi, le ripercussioni sull'economia degli attacchi dei ribelli uti. Federico Plotti. Una crisi, quella del Mar Rosso, che si protrae da quasi due mesi. 50 giorni in cui la minaccia degli attacchi ai mercantili occidentali da parte dei ribelli iemeniti uti si fa sempre più forte, condizionando il mercato globale, soprattutto quello europeo. Al momento gli effetti sono limitati, ma se questa situazione dovesse protrarsi ancora nel tempo, le conseguenze potrebbero avere un peso ben più importante sulle economie dei paesi del vecchio continente. Al momento molti armatori hanno già deciso di evitare il canale che collega il Mar Rosso al Mediterraneo, arrivando in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra, circunnavigando il continente africano. Un viaggio di almeno nove giorni più lungo, con costi decisamente più alti che finiscono per riversarsi su quelli delle materie trasportate. E' accascata su tutta la filiera, fino ai prodotti venduti sugli scaffali. Dallo stretto di Suez, in entrata e in uscita, passa oltre il 12% delle merci mondiali, quasi il 40% dell'import-export italiano. Per questo l'Europa presto invierà nel Mar Rosso una missione navale difensiva, come quella già intrapresa da Stati Uniti e Gran Bretagna, per difendere i propri interessi commerciali e garantire la sicurezza a lungo una delle vie mercantili più importanti del mondo. Sarà il nostro paese a guidarla, così come annunciato dal ministro della Difesa, Crosetto. Caro Vita, a causa del boom dell'inflazione, in media ogni famiglia italiana, per gli stessi acquisti, ha dovuto sborsare negli ultimi due anni 4.039 euro in più. Caterina Dall'Olio. Caro Vita, le stelle, a causa dell'impennata dell'inflazione registrata tra il 2021 e il 2023, a farne le spese sono soprattutto le famiglie di medio reddito, che hanno speso 4.000 euro in più per le spese generiche. I rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, ma anche i prodotti alimentari di prima necessità, come zucchero, riso, olio, latte, burro, e poi le bollette di luce e gas. Quest'ultimo, in particolare, sale di quasi il 7% a gennaio per i clienti vulnerabili e rimasti nel regime di maggior tutela. La stancata nei prezzi poi ha destabilizzato, in particolar modo, le famiglie più fragili economicamente. L'aumento generalizzato della spesa, infatti, ha provocato una perdita di potere d'acquisto mai così alta da almeno 25 anni. Rispetto a due anni fa, le famiglie hanno subito aumenti spaventosi, hanno portato a casa un numero di beni e di servizi decisamente inferiore. Una situazione che ha penalizzato anche i piccoli negozi di vicinato, che, a differenza della grande distribuzione, hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei centri storici e anche nelle periferie, il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le salacinesche abbassate sono in costante aumento. Con meno negozi di prossimità diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d'uomo, penalizzando soprattutto gli anziani, una platea sempre più numerosa che in Italia conta più di 10 milioni di over 70. La marcia dei trattori in protesta contro le politiche europee sull'agricoltura punta ora sulla capitale. Beatrice Bossi. Strade bloccate e caselli autostradali intassati. La protesta degli agricoltori si fa sentire. I trattori invadono le strade e gli effetti sulla viabilità sono inevitabili. Motori accesi e prima in granata tutti diretti a Roma per esporre le proprie ragioni al governo. Ci stanno proprio massacrando. Il gasolio non si può comprare più. È frutto che arriva dai paesi esteri a prezzi stracciati, con trattamenti che noi ci hanno vietati da anni. Quella che è scritta oggi a Bruxelles non è assolutamente transizione ecologica. Oggi quello è mettere in difficoltà le imprese e favorire oggi i mercati esteri, anche extraeuropei, nella competizione di mercato. Qui siamo nel Viterbese, al casello autostradale di Orte. 150 mezzi hanno ingombrato lo svincolo questa mattina costringendo l'intervento della polizia. Nelle stesse ore, in numerosi e diversi angoli d'Italia, le telecamere hanno ripreso le stesse scene. Questo è il momento in cui i trattori hanno varcato le porte di Milano. Partiti da Melegnano si sono fermati dopo 20 chilometri di corteo. Manifestazioni anche a Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, L'Aquila, Perugia e Caserta. La prossima settimana il loro malcontento si unirà a Roma. Siamo appena usciti dalla questura, quindi la manifestazione si farà. Lundi sera, dopo le 5, comunicheremo la data. Ammasseremo i trattori fuori dalla città, hanno aggiunto, scongiurando però, quanto già accaduto nei giorni scorsi a Bruxelles, dove è stata soprattutto la rabbia a gestire l'assalto al cuore dell'Europa. Nuovo attentato in una stazione di Parigi. Tre feriti accoltellati, uno è grave. E l'assalitore 32enne ha la patente italiana. Sentiamo i dettagli da Raffaella Frullone. Alla Gare de Lyon, principale stazione del capoluogo francese, il traffico ferroviario è ormai ripreso dopo l'interruzione di questa mattina. Le pattuglie dell'operazione Sentinelle, avviata dopo gli attentati del 2015, controllano la situazione dopo l'arresto, stamattina, di Cassogue Sogo-Gonu, 32enne, originario del Mali, che attorno alle 8, armato di coltello e martello, ha aggredito tre persone prima di essere bloccato da alcuni passanti e poi arrestato. Quattro le persone trasportate in ospedale, i tre feriti, uno è grave e in pericolo di vita, più una quarta persona in stato di shock. Su Twitter il ministro dell'interno Darmanin ha ringraziato chi è intervenuto a mobilizzare l'aggressore. Nella tasca della sua giacca le forze dell'ordine francesi spiegano di aver trovato un bigliettino consegnato alla data di un appuntamento in Piemonte, dove risultava risiedere con regolare permesso di soggiorno dal 2019 per una visita psichiatrica, forse un controllo dal momento che l'uomo aveva con sé anche delle confezioni di antipsicotici e antiepilettici, segno di un disagio psichico ormai noto. Si affievolisce quindi l'ipotesi della matrice terroristica, anche se, spiega Loron Munez, prefetto della Polizia di Parigi, in questi casi la prudenza è massima. Si dovranno attendere ora gli esiti delle indagini sul suo telefono, nonché quanto emergerà dall'interrogatorio. Andiamo in Turchia per le indagini sull'attacco alla chiesa italiana di Istanbul. Sono stati fermati 17 sospetti terroristi. I servizi di sicurezza turchi hanno scoperto l'esistenza di piani per attaccare luoghi di culto diversi da quello islamico. E sono stati rapiti altri due sacerdoti in Nigeria, padre Kenneth Kahnwa, parroco di San Vincenzo de Pol, e il suo assistente lo riferisce la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, precisando che sono stati rapiti dalla loro canonica il primo febbraio. È uno stilicidio nel generale disinteresse, ha commentato ACS. Le formule e gli elementi materiali stabiliti nel rito essenziale del sacramento non possono essere cambiati a piacimento, così facendo infatti il sacramento. Non è valido, lo afferma una nota del di Castero per la dottrina della fede. Sentiamo Paolo Fucili. La Chiesa è ministra dei sacramenti, ma non padrona. Per la creatività c'è ampio spazio nella pastorale, ma celebrando un sacramento si deve osservare fedelmente il libro liturgico senza aggiungere, togliere né mutare alcunché. Scrive oggi il di Castero per la dottrina della fede, rifacendosi al Concilio Vaticano II. Ecco Gestis Verbisque, con aventi e parole, pubblicata oggi, nota a firma del prefetto Cardinal Fernandez e approvata da Papa Francesco. Un perentorium motivato al tolà a chi modifica materia e forma dei sacramenti, vale a dire elementi materiali come acqua, pane, olio, vino, gesti come ungere o imporre le mani e infine le parole del rito. Magari, riconosce la nota, si fa in buona fede per rendere un sacramento a proprio parere più comprensibile. Però non solo è illecito in ogni caso, può persino invalidare il sacramento stesso. E se questo succede col battesimo, allora sono invalidi anche gli altri ricevuti dopo, come spesso capita di constatare, lamenta il Cardinal Prefetto, e non da oggi. Ai sacerdoti, perciò, Fernandez rammenta che i sacramenti sono tesori che la Chiesa ci affida, ma non sono nostri. E non si tratta di rigorismo, bensì di manifestare davanti alla comunità che solo Cristo è capo della Chiesa e quindi vero presidente della celebrazione. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano i seminaristi di Madrid. A loro l'esortazione a porre Dio al centro e a liberarsi dalle futili idee mondane. Mentre nell'udienza ai docenti e agli alunni del collegio Rotondi di Gorla Minore, in provincia di Varese, ha sottolineato l'ignoranza genera paura e la paura genera intolleranza. Voi non fate così. Studiate facendo squadra, insieme e sempre in allegria. La conoscenza infatti cresce nella condivisione con gli altri. E 300 parroci, individuati dalle conferenze episcopali e dalle chiese orientali cattoliche, parteciperanno ad un incontro mondiale di ascolto, preghiera e discernimento a Roma in vista del Sinodo in Vaticano del prossimo ottobre. Rita Salerno. 300 parroci di ogni parte del mondo a Roma per incontrare Papa Francesco e per offrire la propria esperienza al servizio della Chiesa Sinodale. È il duplice obiettivo dell'appuntamento internazionale messo a punto dalla Segreteria Generale del Sinodo e dal di Castero per il Clero organizzato con i di Casteri per l'Evangelizzazione e per le Chiese Orientali. Da domenica 28 aprile fino a giovedì 2 maggio i partecipanti, selezionati dalle conferenze episcopali e dalle Chiese Orientali in base agli ambiti di appartenenza e alle esperienze maturate, si confronteranno all'interno di laboratori in dialogo con gli esperti inframmezzati da celebrazioni liturgiche e buone pratiche per essere poi ricevuti in udienza dal Papa l'ultimo giorno, il 2 maggio. Per individuare il numero di partecipanti si è scelto un criterio simile a quello utilizzato per l'elezione dei componenti dell'Assemblea Sinodale. Un rappresentante per le conferenze episcopali con non più di 25 membri, due rappresentanti per quelle che ne hanno da 26 a 50, tre per quelle che hanno da 51 a 100 e quattro invece per quelle con oltre un centinaio. L'iniziativa intende ascoltare valorizzare l'esperienza dei sacerdoti nelle chiese locali e i risultati dell'incontro saranno sfruttati per l'Istrumentum Malaboris, il documento di lavoro della seconda sessione dell'Assise Sinodale prevista ad ottobre 2024. Nomina nella chiesa in Italia, Papa Francesco ha scelto come vescovo di San Marino a Montefeltro Don Domenico Beneventi del clero dell'Arcidiocesi di Acerenza, finora parroco e docente. È morto a 86 anni Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II. Si è spento a Ginevra serenamente, ha reso noto la famiglia. Elena Seno. Circondato dalla sua famiglia a sua altezza si è serenamente spento a Ginevra alle ore 7.05 di questa mattina. Così in una notte la Real Casa ha annunciato la morte di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José. In seguito al referendum che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia e in base alla tredicesima disposizione transitoria della Costituzione che vietava l'ingresso in Italia anche ai discendenti maschi dei Savoia, Vittorio Emanuele visse in esilio fino al marzo 2003 quando la disposizione venne abrogata e lui rientrò a Napoli non senza polemiche. L'anno precedente prese ufficialmente le distanze dalle leggi razziali prima volta per la Casa Savoia. figura controversa quella di Vittorio Emanuele per le vicende giudiziarie in cui fu coinvolto anche se alla fine scagionato. Fu accusato e poi assolto per la morte di Dirkamer 19enne tedesco morto in una sparatoria nel 1978 sull'isola di Cavallo in Corsica. Sposato con Marina Doria una storia lunga 70 anni la loro con lei ha avuto un figlio Emanuele Filiberto tra pochi giorni Vittorio Emanuele avrebbe compiuto 87 anni. L'attore statunitense Carl Withers ex giocatore di football che ha lasciato il segno a Hollywood interpretando il pugile Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky con Sylvester Stallone è morto giovedì primo febbraio nel sonno nella sua casa di Los Angeles tra gli altri suoi film anche Predator con Arnold Schwarzenegger e la recente serie The Mandalorian si intitola Ivan Graziani per gli amici l'album con otto canzoni ritrovate dell'indimenticato cantautore abruzzese realizzato per l'iniziativa del figlio Filippo ce ne parla Francesco Durante ha rivoluzionato la musica d'autore e il rock italiano a partire dalla metà degli anni 60 Ivan Graziani con quelle canzoni entrate nel cuore per il suo particolare timbro vocale le originali melodie i testi curiosi ed evocativi come Lugano Addio Agnese Pigro Firenze canzone triste il figlio di Ivan Graziani Filippo ha ritrovato otto brani inediti registrati dal cantautore abruzzese morto a 51 anni nel 1997 raccogliendoli in un album dal titolo Ivan Graziani per gli amici era un cantatore che scriveva fondamentalmente di storie raccontava cose che succedevano nella vita quotidiana la sua ispirazione era proprio la vita quotidiana e se vuoi anche la provincia il lavoro è finito tra le otto canzoni inedite titoli come una donna tv la canzone dei marinai e la rabbia che ha dato origine ad un video con alcuni disegni realizzati da Ivan Graziani il disegno era una componente fondamentale della creatività di papà aveva tantissima tantissima ispirazione anche nei disegni e soprattutto anche nel modo di suonare la chitarra in questi per esempio negli assoli di papà che io definisco sempre pennellati cioè assoli che come se fossero stati fatti con la penna in mano ci prendiamo un respiro con una piccola pausa tra poco bentornati nello studio del TG2000 un'ultima ora che viene dal conflitto russo-ucraino è salito ad almeno cinque morti il bilancio di un bombardamento ucraino su una panetteria del Lugansk regione controllata dai russi mentre altre sei persone sono state estratte vive da sotto le macerie lo ha affermato il ministero per le emergenze di Mosca citato dalle agenzie russe ed è tutto vi lascio al meteo e alla diretta della Santa Messa e vi ricordo che potete rivedere questa edizione del telegiornale come il resto della programmazione nella nostra app Play 2000 grazie del vostro tempo prossima edizione alle 20.30 buonasera grazie a tutti